buongiorno buongiorno ragazze e ragazzi grazie di essere qui stamattina siete veramente numerosissimi io vi chiederei di prendere posto perché abbiamo dei tempi un po stretti siete tantissimi vogliamo lasciare tanto spazio alle vostre domande allora se avete delle necessità se avete bisogno di andare in bagno le toilette mi dicono sono da quella parte lì ma ci sono delle maschere a cui potete chiedere informazioni ora diciamo io direi di iniziare così riusciamo a stare bene nei tempi per cominciare io sono Ilaria Gaspari sono qua nel ruolo diciamo di moderatrice è una scelta scellerata perché non sono molto brava a stare nei tempi io stessa ma ci proverò con tutte le mie forze e ora lascio la parola per i saluti al sovrintendente alla dottoressa Brescianini dell'ufficio scolastico regionale Emilia Romagna e al direttore di dipartimento il professor Nicola Grande buongiorno a tutti benvenuti sono sovrintendente di questo bellissimo teatro che vi ospita questo è il teatro Manzoni la sala principale è il teatro comunale in piazza Verdi e adesso è un lavoro di di strutturazione abbiamo una sede provvisoria molto interessante anche dal punto di vista ingegneristico e artitettonico una sala provvisoria in piazza della Costituzione all'ingresso della fiera noi facciamo ordinariamente musica purché ci occupiamo di un aspetto molto legato ai sentimenti all'arte la trasposizione ma la musica accompagna molto nella vita di tutti voi di tutti noi in diversi momenti quelli più seri quelli più più di svago e noi affrontiamo un po tutto questo aspetto con grande gioia con grande passione per cui benvenuti grazie al professor Dionigi che ha pensato di ospitarci ospitarvi in questa sede io sono veramente molto felice di questa presenza di signora Vasi di tutti voi per cui buona giornata e buon lavoro a tutti grazie buongiorno ragazzi buongiorno ragazze buongiorno ai docenti accompagnatori io inizierei con un grande applauso a voi che avete scelto di essere qui oggi l'applauso non è solo forma ma è anche sostanza perché noi come ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ministero dell'istruzione del merito e con il vice direttore generale dottor di palma dell'ufficio medesimo che oggi non è qui perché convocato in amministrazione centrale a Roma abbiamo da dicembre insieme al cortile dei gentili insieme al dipartimento di filologia classica italianistica al centro studio della permanenza del classico abbiamo lavorato tanto per preparare questa occasione che è un po' l'iceberg oggi vi verranno vi verrà dato conto anche di tutto il lavoro che avete realizzato in questi mesi insieme ai vostri docenti quindi la volontà comune di tutti gli organizzatori di tutti i presenti è che ci sia la vostra voce la vostra partecipazione perché non siamo qua a insegnare ma siamo qua a ragionare insieme a voi su un tema quello dell'identità attraverso lo studio del latino ma ovviamente non solo che ci impegna tutti come persone come genitori come professionisti chi siamo chi siete è davvero un impegno importante e speriamo che il tempo che sarà scandito in maniera anche molto precisa proprio per garantirvi lo spazio dia la possibilità di rispondere ai tanti quesiti quindi davvero un grazie a chi ha organizzato a chi ci ospita e come scuola non possiamo che applaudire iniziative di questo tempo e di questo tipo che ci consentono di riflettere non solo di produrre nell'augurio di un buon lavoro siamo in ascolto grazie grazie buongiorno a tutte e a tutti voi io sono appunto nicola grandi direttore del dipartimento di filologia classica italianistica del quale innanzitutto porto i saluti ma porto i saluti soprattutto del magnifico rettore dell'università di bologna dell'alma mater studiorum professor giovanni molari che oggi è impegnato fuori sede alla conferenza dei rettori quindi a roma e che mi ha chiesto di manifestare comunque la profonda e convinta vicinanza sua e dell'ateneo a questa iniziativa e a tutte e a tutti voi che siete qui oggi saluto e ringrazio innanzitutto gli ospiti di questa mattinata che vedete già qui al tavolo quindi su eminenza gianfranco ravasi laria gaspari vittorio lingiardi e permettetemi in particolare di ringraziare ivano dionigi che è un po l'anima di questa iniziativa del centro studi per la permanenza del classico che è un riferimento imprescindibile per tutte e tutti noi e saluto ovviamente voi che siete qui oggi le vostre insegnanti i vostri insegnanti e prima di questa giornata conclusiva avete seguito diciamo un percorso didattico impegnativo e che ha richiesto coraggio perché diciamo per rispondere alla domanda che trovate nel titolo dell'iniziativa di oggi tu quis es serve coraggio serve coraggio per affrontare un tema complesso come quello dell'identità e il tema dell'identità è centrale lo è sempre stato lo è nel vostro percorso formativo nel vostro percorso di crescita a livello individuale e a livello collettivo e occorre affrontare questo percorso di costruzione ricerca della propria identità con strumenti adeguati ci occorre affrontare questo cammino con un equipaggiamento giusto perché il tema dell'identità è delicato quanto potenzialmente pericoloso basta pensare a quante guerre usano come pretesto e come alibi la presunta difesa dell'identità basta pensare a come viene strumentalizzato il tema dell'identità nel dibattito politico per la ricerca del consenso e basta pensare a quanto viene strumentalizzato il tema dell'identità di genere alle ricadute e risvolti che ha il tema dell'identità di genere e le richieste di pieno e legittimo riconoscimento che questo tema determina ecco anche per evitare che un tema così importante venga usato in modo distorto oggi voi siete qui perché la lettura dei testi che vi sono stati proposti che rappresenta un ritorno alle nostre e alle vostre radici culturali è una tappa imprescindibile di questo percorso e di questo equipaggiamento che vi serve per affrontare in modo consapevole il tema dell'identità e a volte per andare avanti bisogna fare qualche passo indietro bisogna voltarsi indietro e come dicevo il percorso di ricerca dell'identità è individuale e al tempo stesso collettivo e questo doppio piano cioè personale collettivo si manifesta tanto nel presente quanto ovviamente in prospettiva storica perché appunto come dicevo quello che noi oggi siamo è anche l'effetto di quello che siamo stati ieri quindi recuperare il passato ci dà delle chiavi di lettura imprescindibili per capire il presente per affrontare il futuro dicevo prima che avete avuto coraggio e in un mondo che ormai è dominato dalle scienze dure dalla tirannia dell'algoritmo che ormai devo dire con ramarico sta soggiogando un po' anche l'università affrontare un percorso come quello che vi ha portato qui oggi ribadisco e conclude una scelta coraggiosa e noi sono direttore del dipartimento di filologia classica italianistica tutte le colleghe i colleghi di questo dipartimento siamo abituati a ricevere domande del tipo ma chi studia lettere filosofia poi cosa fa che sbocchi ci sono per chi studia discipline umanistiche in particolare materie classiche ecco a noi piace rispondere in maniera un po' provocatoria che chi studia discipline umanistiche e materie classiche generalmente diventa una persona socialmente pericolosa una persona socialmente pericolosa perché chi studia discipline umanistiche le materie classiche non ha paura delle domande non ha paura di fare domande non ha paura di ricevere domande chi studia discipline umanistiche materie classiche va a cercare le ragioni di ciò che accade si pone dubbi critica discute non compra scatola chiusa e per questo chi studia discipline umanistiche in particolare diventa socialmente scomodo perché difficilmente manipolabile e per questo mi auguro che questa iniziativa e vi ringrazio ancora per essere qui vi aiuti in questo percorso e vi aiuti a essere un po' scomodi per la società che vi accoglierà quando sarete adulti e adulte quindi buona mattinata e buon lavoro a tutte e a tutti voi benissimo ora lasciamo la parola al professor d'onigi anzitutto un caro saluto a tutti quelli che stanno da questa parte del tavolo ma soprattutto a quelli che stanno davanti al tavolo allora questa iniziativa per rendere giustizia anche alla genesi è nata con un'idea del cardinale ravasi lui presiede queste istituzioni il cortile dei gentili inaugurato a bologna nel 2012 poi trasferito l'anteprima bologna poi a parigi e ogni anno lui percorre l'italia all'estero fissando un tema ora la giustizia ora e la fede e allora un anno fa detto perché non facciamo un cortile gentili sul latino noi a bologna e ha detto e perché non bologna vista la presenza anche di questo studio la permanenza del classico io approfitto per ringraziare tutti i membri i collaboratori del centro a cominciare dall'amico e collega francesco citti quindi questa iniziativa è nata per idea del cardinale il cortile dei gentili in cui insieme poi al centro studio la permanenza del classico del dipartimento di filologia classica italianistica dell'alma madre in collaborazione fondamentale con l'ufficio scolastico regionale voi stamattina siete settecento e sessantadue più i quaranta accompagnatori ci sono qui presenti oltre ottocento persone quindi il grazie va a tanti soprattutto però dopo mesi di percorso io direi che il grazie va a voi perché siete qui perché farete l'università merito dei genitori merito di merito soprattutto io ritengo che sia merito dei vostri professori delle vostre professoresse allora per dare un là a questo incontro l'applauso ora lo fate a loro va bene io ho il compito di introdurre questo incontro poi ci sono le relazioni le vostre domande alcune programmate altre libere in base anche al tempo abbiamo disposto anche le domande e anche l'ordine in sale in base a chi prima ha fatto domanda presso l'ufficio scolastico regionale allora tu chi sei io potrei parlarvi dell'utilità del latino delle sue proprietà distintive a cominciare dal primato dalla parola il latino mater certa anzi certissima del nostro italiano quando voi dite religione cultura natura uomo voi parlate latino potrei parlarvi dell'altra proprietà della centralità del tempo a roma era forte questo questo sentimento del tempo nell'arte nella religione nella stessa lingua pensate alla consecucio temporum e poi la nobiltà della politica questa parola miracolosa stupenda tutta latina dalla res pubblica che è intraducibile e il latino io potrei parlarvi di un autore cristiano basilio di cesarea che l'amico cardinal ravaggio conosce molto bene lo cita spesso il quale alla fine del quarto secolo scrive proprio un discorso ai giovani nel quale invita i suoi giovani nipoti a studiare i classici come modello sia per la vita intellettuale che per la vita pratica potrei parlarvi anche del perché questi classici resistono il nostro centro si chiama la permanenza del classico e dirvi della loro attualità perché sono attuali la loro attualità non è un giochetto di parole ma deriva dalla loro inattualità loro sono fondativi del presente ma sono anche antagonisti del presente come la scuola deve essere il contraltare alla modernità al modo modo vuol dire ora adesso e qui i classici hanno questo hanno quest'antagonismo verso il presente per questo durano e vi interessano il giornale che uno guarda o l'ipad o la cosa già la sera è superato questo un page che scorre scorre tutto scorre vero dall'annuncio dell'elezione di un papa un gattino morto tutto scorre indistintamente con la perdita di che cosa la perdita del tempo era la perdita del tempo io potrei parlarvi appunto di questa permanenza questa centralità del classico proprio nella vostra vita però preferisco un altro percorso io vi propongo tre flash tre momenti storici nel quale il latino il latino dei motti latini hanno caratterizzato un po la vita pubblica politica il primo è vostri coetane proprio di tanto tempo fa come oggi diciamo tu qui sesso la frase di agostino il latino ci interroga vero doppiamente ci interroga è la frase tu chi sei però detta in latino il primo flash fine degli anni sessanta erano gli anni della contestazione giovanile non dico dei vostri genitori ma dei vostri nonni ormai ebbene nella manifestazione nazionale contro la guerra nel vietnam nel 1967 campeggiava all'inizio di questi cortei un vistoso manifesto con la scritta hanno fatto il deserto e lo hanno chiamato pace si tratti di un testo non originale elaborato dai giovani contestatori barbuti con l'eschimo alla sciarpa rossa ma di un passo dell'agricola di tacito divenuto un vero e proprio slogan della contestazione dalla seconda metà dell'ottocento star ordinariamente fortunato fino ai nostri giorni e caro sia i movimenti pacifisti sia il leader dei paesi martoriati vi tralasci i particolari di cronaca sono esattamente le parole di calcago capo dei caledoni il quale smascara il vorace e crudele imperialismo romano ammantato di parole mistificatrici che suonano così il depredare il massacrare il rapinare con falsi nomi li chiamano impero e dove fanno il deserto lo chiamano pace il latino dice au ferre trucidare rapere falsis nominibus imperium appellam ad que ubi solitudine in facium pace mappellam il secondo flash 2015 circa 50 anni dopo da quel primo manifesto sono gli anni del rifiuto del terrorismo questo flash parigi nei giorni che seguirono gli attentati terroristici di matrice islamica del bataclan avvenuti il 13 e 14 novembre del 2015 insieme ai colori della bandiera francese adottato come frase simbolo dalla propria reazione nazionale rinascita l'espressione fluttuat nec mergitur sottintesa respubblica la repubblica è sballottata da flutti ma non affonda la scritta parigi sui muri della place della repubblica la dipinta negli striscioni delle manifestazioni la proiettato sulla tour eiffel la franza sconvolta in quelle ore drammatiche non ha citato nei suoi grandi saggisti negli autori dei lumi nei suoi più recenti nuovi filosofi si è invece affidata a quello che era il motto dalla città fin dalle sue origini 1358 il parallelo nave repubblica sconquasso dalla nave disordine dalla patria immagine allegoria di evidente derivazione orassiana nave altre onde ti porteranno in mare o navi referenti in mare te novi flutus orazio a sua volta imitava il poeta al ceo e non era stato soffocle nell'antigona ricordarsi per bocca del recreonte che la patria si salva solo se naviga dritta e salda ebbene per riprendersi alla vita parigi sia affidata le parole e alla mediazione sia al medium del latino di una lingua morta fluttuat nec mergitur quelle parole fluttuat nec mergitur come capite bene hanno fatto un lungo viaggio in compagnia della cultura e della storia remota e recente d'europa dalla grecia arcaica ad al ceo orazio roma la roma imperiale alla roma alto medievale il motto parisino alla parisi dei vari secoli dalle origini alle banlie le aree periferiche dei grandi agglomerati urbani quasi a segnare la comunanza del destino tra i trapassati e i nascitori il terzo flash e quello di oggi è quello che vede un po lo smarrimento come è stato detto bene già da qualcuno è vero siamo nell'era dell'ipertrofia dei mezzi dell'artrofia dei fini alla ricerca un po tutti non solo voi anche noi anche quelli che hanno i capelli bianchi quando li hanno dalla ricerca di sé dalla conoscenza di sé e voi avete avuto mesi fa anche questi testi che vi possono aver aiutato potrete continuare a esaminare questa domanda nella massima conosci te stesso gnozzi sautone vera apposta sul frontone del tempio di appollo in delfi fin dall'antichità si è voluto vedere il richiamo ora alla potenziale grandezza dell'uomo ora la sua misera ci sono interpreta quel principio come un segno l'uomo è un contenitore quasi vasto è quasi un vaso di un animo divino interpretazione platonica segna seneca anche lui dice cos'è quella domanda conosci te stesso c'è un segno che noi siamo un vaso fragile un vaso debole nudo privo di difese naturali esposta agli oltraggi della fortuna tu chi sei sei un vaso un qualcosa che contiene qualcosa di divino l'esigenza cicerone un vaso fragilissimo interpretazione platonica quella di cicerone più che quella di semica due concezioni che troviamo congiunte qui mi correggerà il cardinale nel salmo 8 davvero l'uomo lo hai fatto poco meno di un dio però lo hai chiamato adan polvere di suolo ma attenzione mentre seneca pone la domanda impersonale filosofica qui destomo che cos'è l'uomo come dicono i filosofi la quiddità agostino pone la domanda personale esistenziale tu chi sei tu 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 qui sei tu veronica la vigna laura ginevra tu matteo fabio alessandro tu 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 chi sei la stessa domanda che poneva socrate ai cittadini di atene stock socrate io me lo immagino come uno stalker interrogante è vero che girava per atene ferma tu chi sei tu cosa fai tu tu ebbene è la stessa domanda che noi ci poniamo oggi a differenza di sene che il quale non ha un dio cui credere o rendere conto agostino si pone l'interrogativo dopo aver invato cercato la presenza di dio nell'universo vi tralascio il passo impossibilitato a scandagliare l'abisso di dio agostino scandaglia l'abisso di sé infine dopo aver chiesto è vero l'ho domandato alla terra l'ho domandato al mare l'ho domandato al vento non sono io il tuo dio non siamo allora tu chi sei tu tu chi sei rivolta all'uomo è vero tu qui sei un uomo omo con questo rimando allusivo omo a humus ecco il nostro incontro di oggi dovrebbe aiutarvi con l'ausilio dei testi che avete letto e con le riflessioni di alcuni vostri fratelli maggiori il cardenal ravasi vittorio lingiardi psichiatra e psicanalista una sorella maggiore ilaria gasperi scrittrice a rispondere a questa domanda fondamentale per poter progettare il futuro delle vostre vite diplomarsi laurearsi sapendo tutto di inglese internet e impresa senza conoscere se stessi sarebbe il più grande fallimento della scuola è il modo per entrare indifesi e impreparati nel mondo del lavoro per vivere bene o meglio per non vivere male almeno dobbiamo sapere chi siamo la conoscenza non solo cosa sappiamo fare la competenza ha detto elliot ha scritto il grande elliot dove la vita che abbiamo perduto vivendo dove la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza dove la conoscenza che abbiamo perduto nell'informazione voi capite bene allora che ci sono quattro livelli c'è il livello primo dell'informazione c'è un livello secondo della conoscenza c'è un terzo livello della sapienza e poi c'è il quarto livello che ci interessa tutti più da vicino e per cui siamo oggi qui c'è il livello della vita grazie e buon lavoro a tutti noi grazie al professor dionigi per questo bellissimo saluto e ora lasciamo la parola al cardinale rovasi grazie io vorrei iniziare con in una maniera un po impressionistica con una serie di piccoli quadri diversi evocati anche da quanto avete ascoltato prima comincerei col primo quadro che giustifica anche questo nome questo titolo cortile dei gentili dunque ero molto giovane allora io appartengo appunto una generazione ormai che per voi è il colore quasi del neolitico credo e ero mi dedicavo tra l'altro oltre che alla mia funzione di ecclesiastica anche all'archeologia all'archeologia nel vicino oriente ed ero andato apposta a scegliere nell'interno del museo di archeologia della di istanbul a cercare un'iscrizione le guide non me la sapevano indicare ho dovuto io cercarle e l'ho trovata finalmente un'iscrizione piccola sette righe in greco che era l'inglese di allora questa piccola epigrafe veniva da gerusalemme e veniva era stata scoperta da un archeologo dell'ottocento e veniva da uno spazio tutto particolare quello che ha evocato il professor dionigi quello che veniva era chiamato il cortile dei gentili cioè che era uno spazio gentili gentes in latino e le nazioni esterne non ebrei che era riservato a loro quando arrivavano a gerusalemme e da lì potevano vedere ciò che gli ebrei facevano nel loro tempio che era anche il luogo emblematico della loro cultura ebbene lì c'era un vero e proprio muro divisorio che separava questo cortile dal cortile degli israeliti ebrei e su questo parapetto c'erano delle targhe e una di queste targhe è stata trovata e cosa diceva in greco? Combinava la pena di morte automatica chi avesse varcato entrando nell'area sacra dove poteva entrare solo il circonciso quindi come quanto si ha si mette quando c'è una zona militare che non la si può varcare allora a questo punto per arrivare invece al cortile dei gentili voi conoscete la figura di Paolo io ieri ho tenuto una conferenza un partito proprio con il sogno che non è stato realizzato di Pasolini di scrivere di realizzare un film su San Paolo ha lasciato solo la sceneggiatura ebbene Paolo scrive ai cristiani di Efeso questa bellissima città dell'Asia minore della costa Igea e scrive e dice Cristo è venuto e ha abbattuto picconato il muro di separazione che c'era tra i due popoli facendo dei due popoli un popolo solo ecco qual è il compito in pratica di questi incontri io non so quanti tra di voi sono credenti e quanti non lo sono ma sicuramente c'è questa distinzione voi vedete attraverso il cortile potete essere insieme e parlare e dire liberamente un'altra scena questa riguarda voi per entrare un po' nel latino è dedicato al latino abbiamo già fatto con il professor Dionigi a Roma un cortile dei gentili con studenti titolata Digito Ergosum io vorrei proprio immaginare adesso per voi il latino la tentazione è anche quella magari io farò la fine di parlare solo il latino pensate che io ho fatto da giovane allora tutti sette anni di due lauree diverse tutte le lezioni erano in latino e tutti gli esami erano in latino un latino evidentemente molto accessibile bene voi stamattina avete fatto un gesto che è scontato vi siete lavati la faccia tutti dove vi siete lavati? al lavabo pensate che quel termine evidentemente è latino laverò è la citazione di un salmo salmo 66 nella versione io parlerò soprattutto del latino di San Gerolamo laverò le mie mani tra gli innocenti e accederò all'arca del Tempio di Dio questo salmo pensate la prima parola è diventata la rappresentazione di quello spazio quotidiano in cui vi incontrate ancora un'altra scena diversa poi entro nel tema è stato parlato è stato detto prima del tema dell'ascolto e delle domande io ho tenuto un corso poi una parte l'abbiamo fatta anche insieme alla LUIS di Roma che voi conoscete una università nota e ho tenuto un corso sull'ars interrogandi la seconda parte insieme l'abbiamo fatto sull'ars rispondendi ecco l'ars interrogandi è la cosa più difficile aveva ragione Oscar Wilde scrittore che voi ben conoscete il quale diceva le risposte sono capaci di darle tutti per fare le vere domande ci vuole un genio e la scienza prosegue con le grandi domande è strutturale alla nostro essere ed esistere l'interrogazione pensate il bambino implacabile coi suoi perché incessanti rivolti ai genitori proprio perché deve decifrare questo orizzonte in cui è inserito per cui le vostre domande saranno fondamentali ma anche lo è e lo vedo adesso che veramente io sono un po' impressionato di poter parlare non essendo abituato normalmente a parlare un tipo di pubblico così ecco di sentire questo silenzio l'ascolto e pensate che nella lingua della Bibbia ascoltare è un verbo solo che gli dice anche obbedire cioè uno si ascolta veramente aderisce e soprattutto voi sapete bene qui stiamo sempre nel latino derivato quando voi dovete dire che è qualcosa che è assolutamente insensata che non ha significato cosa dite? che è una realtà assurda che vuol dire assurda assurda l'incapacità di ascoltare crea l'assurdità ecco basta perché potrei proseguire ancora anzi voglio fare già adesso un augurio a tutti voi perché tra un po' di anni anzi pochi per voi saremo colleghi perché io ho avuto l'onore e lo ripeto sempre l'ho detto anche ieri sera parlando a San Petronio ho avuto l'onore di avere la laurea Noris Causa è una laurea un po' particolare ma è una laurea pur sempre all'Università di Bologna e quindi tra poco molti di voi saranno appunto miei ideali colleghi in questo percorso detto questo arriviamo al tema e il tema naturalmente io lo devo fare dal punto di vista del testo sacro grande codice della nostra cultura la Bibbia fondamentalmente ebbene la domanda la domanda che è stata posta è quella di Agostino tu qui sei nell'interno della prima pagina della prima pagina della Bibbia c'è la stessa domanda io adesso userò un po' il latino perché è la traduzione di Gerolamo che è stato il grande traduttore geniale della Bibbia la domanda è UBS dove sei? nell'originale ebraico è un solo termine AIEKA e da chi viene rivolto questo termine? se volete il pregresso è questo sentitelo in latino Ab scondit se Adam et uxor eius a face domini dei vedete si erano nascosti e perché si erano nascosti? qui c'è un tema che naturalmente potrebbe sviluppare in maniera molto più nobile e alta al professor Lingiardi perché erano nudi e erubeshebant avevano vergogna prima poche righe prima si dice che erano nudi e non erubeshebant vedete questa differenza quando tu sei la nudità e la rappresentazione dell'essenzialità radicale della persona dell'esistenza quando tu sei sereno sicuro dentro di te non c'è il rimorso pensate anche questa parola come significativa qualcosa che ti artiglia tu stai nudo non hai bisogno di costruire ipocrite dei mantelli di difesa quando invece sei arrivato a quel punto tu ti nascondi ha bisogno del vestito stare nascosto e senti quella domanda dove sei una domanda che ti snida dalla tua falsa protezione e a questo punto allora vorrei indicarvi solo tre elementi per rispondere a questa domanda e li troviamo nell'interno di due pagine iniziali della Bibbia che voi tutti conoscete anche se non siete credenti anche se non l'avete mai letto perché è talmente famoso sono talmente famose queste due pagine capitolo secondo e terzo della Genesi e vorrei evocare questi tre elementi primo come si chiamano questo lo sapete tutti come si chiamano i due protagonisti di quella storia in realtà si tratta di una eziologia cioè risalire alle origini per individuare il filo conduttore il fiume della vita che arriva fino a noi vi sapete i due nomi vero? uno è Adamo voi dite e l'altro è Eva ebbene non è vero perché nell'originale non sono nomi propri ma sono nomi comuni per esempio Adamo è nell'originale A Adam che è con l'articolo A e Adam cosa vuol dire? colui che ha il color ocra rossiccio della terra dell'argilla la materialità e vedete è l'uomo con la U maiuscola con l'articolo è solo così che noi l'abbiamo fatto diventare un nome proprio per cui lo diceva molto bene Pasquale chi è Adamo? Adamo è mio padre sono io e mio figlio cioè quel tessuto comune è il tessuto che unisce tutta l'umanità al di là della variazione delle etnie con buona pace di quelli che introducono la razza bianca o meno che è solo frutto di ignoranza in questo caso la base è comune abbiamo un'unica se volete dire questo termine brutto razza la damica Havva Eva significa semplicemente la vivente perché ecco lei che dona la vita generando la donna ecco la mia prima considerazione si tratta perciò nell'interno quando io rispondo alla domanda dove sei è far emergere l'umanità in quanto tale secondo qual è l'elemento fondamentale che descrive questo questi due che però abbiamo detto sono due categorie è un elemento che è fondamentale anche qui credo che in sintonia anche se non ci siamo conosciuti ieri sera con il professor Lingiardi ma penso anche con tutti quanti voi stessi l'elemento fondamentale che definisce la persona almeno stando nella grande cultura classica nella grande cultura biblica è la relazione la persona umana di sua natura è un essere ad è un filosofo del secolo che è appena morto non tanto tempo fa tre anni fa non si francese diceva da cartesi in avanti abbiamo continuato a ripetere ego sum cogito er ego sum ergo sum ego sum dobbiamo più spesso invece cominciare a coniugare ego sum io sono con l'altro e le relazioni sono di tre tipi in quella pagina vengono rappresentate in tre tipi che io vi evoco soltanto primo ve lo dico in latino la traduzione poi vi correggerò anche un po' la traduzione inspiravit inspiravit in face meius di questo uomo e donna spiraculum vite che cosa riceviamo noi dall'alto riceviamo la vita la prima relazione è la relazione verticale ascensionale naturalmente per un testo credente si tratta di Dio il creatore io direi in senso più lato di tutto ciò che ci precede ci eccede di tutto ciò che è oltre altro ma anche volevo correggere un po' quello spiraculum vite perché io ho insegnato per tanti anni le lingue semitiche del vicino oriente e nell'originale abbiamo un termine duplice nishmat haim che letteralmente vuol dire è difficile la tradurre un sì respiro vivente però si dice che lo si spiega in un altro versetto della Bibbia che è come una lampada che è nell'interno dell'uomo che gli illumina il cuore e le camere oscure del ventre un po' barocca questa immagine che cos'è? vedete è l'autocoscienza più che la vita quindi la vita dell'uomo e della donna è penetrare in se stesso e la coscienza anche morale seconda seconda relazione la relazione sempre verticale discensionale noi abbiamo la relazione con la materia pensiamo i nostri giorni il problema dell'ecologia come lo sentiamo ed ecco allora che qui si rappresenta questo rapporto che l'uomo si dice è stato posto sulla terra in latino ut operaretur et custodiret la terra per lavorarla e per proteggerla ciò che l'uomo si forse fa la prima parte ma non la protegge la violenta però vedete noi che abbiamo il legame ricordate Adam Adamà deriva da terra color ocra dicevo prima dell'argilla dobbiamo lavorare penetrare e coltivare ma al tempo stesso anche proteggere ed ecco allora che si aggiunge un particolare non so se vi siete mai chiesti perché si dice lì che l'uomo è invitato a dare il nome agli animali nell'Oriente dare il nome a una realtà vuol dire possederla se tu cambi il nome a una persona gli cambi la vita pensate che quando io ho cominciato ad imparare il geroglifico quello non l'ho mai insegnato però dire il vero ho imparato così e una delle cose più curiose c'è un papiro il papiro Anastasi I che è tutto un elenco e si dice è un papiro scientifico è tutto un elenco di cose e di animali perché questo è perché che tu dai il nome vuol dire che conosci che tu puoi trasformare quella realtà perché sai la conosci fino in profondità Walter Benjamin diceva fino a quando non è stato dato il nome alla realtà essa non esisteva e aveva ragione perché lì finalmente si esprime l'entità delle cose ed ecco allora l'importanza qui del homo technicus il primo quello che guardava verso l'alto se volete era l'homo religiosus l'homo metafisicus e qui adesso abbiamo invece l'homo lavoratore tecnico ma e questa è una cosa finissima di quel racconto giunto alla sera della sua avventura religiosa o trascendente e della sua esperienza di lavoratore l'uomo è triste è incompleto gli manca ancora una relazione e qual è questa relazione e voi lo sapete è la relazione orizzontale latino suona così adiutorium simile sibi che sì insomma è una traduzione ma non felice come l'originale sapete cosa c'è nell'originale e poi capirete subito che cosa vuol dire anche l'esperienza dell'incontrare l'altro uomo donna nell'originale ebraico abbiamo che negdo ho bisogno di un altro che sia come di fronte a sé come di fronte a me gli occhi negli occhi ed è per questo qui ancora cito Pascal perché mi viene in mente adesso come uno dei filosofi tra i più suggestivi su questo diceva nella fede come nell'amore i silenzi sono molto più eloquenti delle parole quando due innamorati veri hanno esaurito tutte le parole che si dicono che si ripetono spesso che cosa fanno si guardano negli occhi e tacciano io l'altro ieri nei giorni scorsi dovevo preparare un articolo per commemorare i cento anni della morte di Kafka è un autore che veramente è una vertigine leggere Kafka e capirlo anche e stavo leggendo le lettere a Milena voi sapete che lui ha avuto tre donne in maniera particolare che l'hanno conquistata ma una è stato il suo amore assoluto due anni soltanto ma Milena Iegenska si chiamava ebbene in una di queste lettere stavo leggendo ho trovato una frase curiosa iniziava così una lettera diceva cara Milena domenica avremo per noi stessi quattro o cinque ore troppo poche per stare a parlare di tutto quello che è accaduto sufficienti però per stringerci le mani guardarci negli occhi e stare in silenzio e capite cosa vuol dire è veramente quando si è innamorati non c'è più silenzi sono più eloquenti delle parole non devi più dire e allora a questo punto finalmente l'ominizzazione usiamo questo termine è avvenuta in maniera completa noi la relazione piena l'abbiamo ed ecco allora che c'è quel primo grande canto d'amore quello che verrà ripetuto in mille volte in mille forme diverse in mille lingue tutte le volte che voi avete incontrato la donna che amate in quel momento o l'uomo che avete amato poi magari sarà la storia cambierà ma comunque in quel momento e il canto ve lo dico in latino provate a sentirlo che cosa dice quando ha trovato la donna hava adam lei è os de ossibus meis caro de carne mea chiaro la costola famosa sulla quale si è fatta tanta ironia antifemminista è una stupidità perché in realtà in ebraico è il lato vuol dire cioè che parte è analogo a te è alato in maniera piena e qui c'è Gerolamo che riesce a fare una cosa che nessuna traduzione nelle altre lingue può fare in ebraico si naturalmente perché è l'originale sapete tradurre è sempre un'impresa piuttosto ardua diceva Cervantes è come guardare ogni traduzione come il rovescio di un arazzo l'arazzo lo guardate davanti con tutte le sue scene perfette i colori provate a guardarlo dietro è tutta una fila i fili che cadono le figure si intuiscono a fatica ebbene in ebraico c'è questo come si chiama lei beh si deve certo lì siamo in una cultura maschilista evidente però come si dice uomo abbiamo detto Adam non è propriamente l'umanità uomo maschio ebraico si dice ish come si chiamerà lei isha il femminile e come si fa noi di solito se andate vedere sulla Bibbia la si chiamerà donna perché è stata tratta dall'uomo e cosa vuol dire questo vuol dire niente invece Gerolamo è stato abbe e ha detto la si chiamerà virago perché Davir è stata tratta per indicare questa parità fondamentale che purtroppo è ininterrottamente violata umiliata in tutte le forme non c'è bisogno che di dire come e la Bibbia su questo è presenta più di una volta anche lo stupro per esempio c'è una storia se andate a vedere la storia di Tamar provate ad andarla a vedere la storia di Dina veramente quella di Tamar per me è la più forte se la troverete nel secondo libro di Samuele perché è l'analisi del passaggio dall'amore all'odio l'amore viscerale che però non era un amore vero quando l'hai posseduta violentandola poi dopo ti dà fastidio e questo è pensiamo anche la sonata Kreuzzer di Tolstoi questa luce io concludo con l'ultimo punto l'ultimo elemento che voglio considerare è questo sempre parlando di quella pagina e della risposta dove sei e chi sei anche abbiamo visto noi abbiamo questi nomi uguali ci chiamiamo tutti nella stessa maniera anche quelli che stanno approdando adesso dall'Africa arrivando da noi disperati volti diversi ricordate Levinas forse l'avrete sentito tutto è si costruisce sull'io tu e sul volto e un altro filosofo contemporaneo il suo Ricœur francese diceva che è stato citato anche prima indirettamente da Dionigi quello che diceva è viviamo in un'epoca in cui alla bulimia dei mezzi corrisponde l'anoressia dei fini quanti mezzi di tecnologia abbiamo ma l'anoressia dei fini ebbene lui diceva ma no non solo io tu ma anche il terzo quello che tu non conoscerai mai che non vedrai mai anche lui è adamico poi abbiamo parlato delle tre relazioni l'essere in relazione io guardo avete avuto qualche volta l'esperienza voi io l'ho avuta proprio ed è stata tragica per la famiglia di conoscere un ragazzo autistico e questo è proprio il dramma e qui io non voglio invadere un campo che è però io solo da spettatore esterno vedi come è rinchiuso in questa sua è proprio l'essere autosse e non poter avere o dover costruire rompendo muri questa relazione e da ultimo e concludo con questo con una piccola nota finale c'è un albero questi due si trovano sotto un albero che non è nella tassonomia botanica di Linneo si chiama se vogliamo stare al latino ancora l'ignum scienzie boni et mali l'albero della conoscenza del bene e del male lì sono lì sotto l'ombra e qual è lì il tema fondamentale il tema dell'etica tu ricevi il bene e il male come in sé sono dei valori in sé oppure prendi il frutto e lo strappi tu e decidi tu ciò che è bene e ciò che è male che cosa fanno questi due strappano e il capitolo terzo che io non commento è la rottura di tutti quegli equilibri di tutte quelle relazioni si interrompono l'umanità costruisce un mondo di cui siamo testimoni anche ai nostri giorni in cui per esempio la relazione orizzontale pensate quanto è violentata umiliata ecco allora l'importanza della libertà questa è una caratteristica della cultura ebraico cristiana antica anche della classicità ma in una maniera molto marcata perché per esempio in altre culture c'è il determinismo per esempio nell'accadico un'altra lingua di cui mi sono interessato è il dio kingu che è il dio che viene costruito dal dio del bene e del male nel sangue dentro di sé ha un principio del dio negativo per cui non può fare che il male non è libero di decidere bene o male di scegliere di ricevere il frutto di ricevere la verità la verità che è in sé e che tu conquisti e fai diventare soggettiva ma in sé oggettiva vedi il fedro di platone la pianura della verità dove col cocchio con la carro della verità tu corri continuando a scoprire nuovi orizzonti la ricerca e questo in verità non non è più e allora ecco che entra un tema che qui meriterebbe tutta una riflessione a sé che è fondamentale e che io ve la enuncio soltanto con un binomio che diventa un trinomio il binomio lo conoscete tutti è uno dei capolavori della letteratura delitto e castigo da Stajewski ebbene nella visione che noi abbiamo questa visione che avrei dovuto approfondire di più abbiamo invece un trinomio delitto castigo perdono la possibilità di ricominciare ed è in questa luce che allora io ho finito poi sentirò anche che cosa voi in più potrete aggiungere dopo questa definizione sulla creazione la decreazione e la ricreazione che sono un po' la logica dei primi capitoli della Genese io vorrei finire ancora cito per la terza volta perché mi viene in mente per caso stamattina Pascal il quale si interessa molto del tema della colpa del tema del limite della finitudine e della colpevolezza ebbene lui ha un dialogo straordinario nei pensieri Dio parla all'anima alla persona se tu veramente conoscessi i tuoi peccati le tue colpe non fossi così banale superficiale tu ti dispereresti e allora l'anima cosa dice la persona ma se tu allora mi illumini e mi fai vedere come sono e tutto quello che ho dentro il groviglio di vipere che è dentro di me io mi dispererò ed ecco la risposta provate un po' a sentirla perché è un gioco di parole ma suggestivo Dio gli risponde e dice no che è finora delitto castigo tu non ti dispererai perché le tue colpe ti saranno rivelate nel momento stesso in cui ti saranno perdonate grazie scusate i tecnici potete dar più luce in sale sopra perché non è giusto che voi ci vedete e noi ci dobbiamo guardare negli occhi ecco così mi piace allora grazie al cardinal Ravasi per questo viaggio meraviglioso dentro le parole io penso che di questa lezione stupenda che ci ha affascinati tutti abbiamo sentito tutti il vostro silenzio concentrato che se ora è il momento di iniziare a romperlo con le vostre domande peraltro un'informazione tecnica c'è qua un microfono dove se volete insomma chi vuole porre le proprie domande può venire c'è anche un filo molto lungo però per cui le maschere possono se alzate la mano avvicinarvelo se invece voi che siete sopra in cima avete qualche domanda da fare purtroppo vi tocca venire giù quindi se volete intanto iniziate a scendere intanto io dico giusto due parole su questo bellissimo intervento che abbiamo appena ascoltato penso che uno dei punti più forti di questo intervento sia stata il dimostrarci quanto sono vive le parole quanto il riflettere sulle parole studiarne con la acribia del cardinale certo è qualcosa che alla vostra ma anche alla mia età è impossibile anche forse nel mio caso per le mie più limitate capacità però ecco interrogare le parole conoscerne le etimologie rivoltarle ribaltarle guardarle da dentro e vederle intrecciarsi poi nella storia della letteratura nell'uso che ne hanno fatto i grandi scrittori le grandi scrittrici è qualcosa che ci dà l'idea di quanto le parole abbiano una forza viva in grado di liberarci c'è una poetessa austriaca del novecento Ingeborg Bachman che io amo molto che ha scritto delle poesie meravigliose su quello che significa l'esperienza del vivere si è interrogata anche lei con questa domanda antica da cui stiamo partendo oggi tu chi sei tu chi sei se l'hai chiesto e se l'hai chiesto e hai risposto in molti modi con molte declinazioni oscillando fra la disperazione e la speranza e citando spessissimo moltissime fonti e una volta in un'intervista le chiesero ma che senso ha tutto questo citazionismo tutte queste parole questi nomi che tu nascondi dentro le parole che usi questi riferimenti che sono nascosti e lei ha detto in realtà per me non esistono le citazioni esistono dei passi che mi hanno emozionata una volta e sono entrati dentro di me quindi quelle parole sono entrate a far parte del mio lessico e quello che lei fa effettivamente nelle sue poesie è tentare di allargare nell'uso delle parole che si dilatano nel convergere delle esperienze nel convergere del sentire quello che è stato sentito da qualcuno che è vissuto molti secoli prima in una regione lontana ritorna a risuonare nella sua voce ecco io credo che una cosa che ci possiamo insieme a mille mille altre che ci possiamo portare dietro di questa bellissima relazione del Cardinal Ravasi è l'idea che forse le lingue morte non esistano che ogni lingua è viva nel momento in cui noi la interroghiamo e in cui ci interroga c'è un grande umanista Michel de Montaigne che è stato anche un importantissimo innovatore nell'arte appunto di cercare di rispondere appunto a quell'eterna domanda da cui stiamo partendo oggi lui è uno dei primissimi autobiografi della storia nel senso che scrive un'autobiografia che per certi versi somiglia a quella di Agostino ma se ne differenzia perché la sua è un'autobiografia del tutto umana del tutto umanistica non c'è una conversione da raccontare c'è soltanto il mistero da interrogare continuamente di una vita umana nelle sue saggi e lui perché costruisce questa autobiografia perché arriva a raccontare se stesso e a fare quest'azione che a qualcuno a Pascal che è stato citato più volte che è un filosofo che anche io amo moltissimo appariva addirittura scandalosa perché si cimenta in questa impresa di raccontare se stesso non è narcisismo è il fatto che lui aveva deciso di scrivere una raccolta di massime antiche come usava a fare nel rinascimento ma raccogliendo queste massime se lo racconta Auerbach in un saggio bellissimo su Montaigne lui si rende conto che non ha senso quel lavoro di antologia pura perché ognuna di quelle parole antiche che vengono da una storia sacra e profana delle parole delle lingue del latino del greco di questi motti che lui trascrive scalpella nella sua biblioteca in modo da averli sempre sotto gli occhi ecco tutte quelle frasi lo interrogano su se stesso perché noi siamo anche tutte le parole di chi ci ha preceduto tutte le parole degli altri tutte le parole che ci servono per comunicare per comunicarci e anche per continuare a chiederci a porci domande e a porre domande a chi ci sta intorno ora quindi entrando in tema poniamoci queste domande siamo qui per ascoltarle ce n'è qualcuna che è stata raccolta preventivamente caso mai la timidezza vi paralizzasse io però spero che invece abbiate voglia di porcele direttamente voi spontaneamente anche a partire da quello che è stato detto da questa ricchezza di spunti di riflessione che vi sono stati offerti e che sono sicura saprete cogliere quindi io direi procediamo così ora io sono una persona non molto pratica però mi è stato suggerito di raccogliere tre domande per cominciare e poi rispondiamo a questo blocchetto e poi vediamo se rimane tempo anche per altre se non ce la facessimo in questo momento dedicato al dialogo ce ne saranno altri prima della fine dell'incontro quindi tenetevi le vostre domande da parte perché se non riusciamo a rispondere anche a tutte lo faremo più tardi ora avete qualche domanda siete pronte siete pronti non abbiate timore sì se non ce le avete io ce le ho qua sono sempre vostre però vedo che qualcuno si alza con grande coraggio è un applauso allora intanto buongiorno e grazie di ciò che avete detto Massimiliano Barbuti e liceo Luigi Galvani scientifico internazionale allora la nostra domanda è la seguente il corpo è stato spesso considerato come la componente umana più corruttibile veicolo di peccato di minore importanza rispetto all'anima oggi il rapporto sembra invertito psiche e soma rappresentano un'unità e sono strettamente collegati tuttavia oggi la cura del corpo prevale su quella dell'anima questo perché bravo 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 direi che la domanda proprio non ci poteva essere interlocutore per la radicalità proprio lì è una domanda assoluta e hai la fortuna di oltre così alle svariate decadi di libri che ha letto il carriano ravasio recentemente così mi ha fatto dono di un suo libro non recente ma ha rivisto una breve storia dell'anima breve storia sono 300 pagine quindi dove proprio affronta anche questo problema quindi su questo tema del corpo e dell'anima credo che il cardinale possa risponderti nel modo migliore senz'altro raccogliamo magari un altro paio di domande annotiamo questa bellissima domanda c'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa? io sono miope quindi non vedo molto bene da lontano quindi aiutate buongiorno a tutti e sono sempre una studentessa mi chiamo Sofia Tartari e sono una studentessa del liceo Galvani sempre scientifico internazionale e la mia domanda riguardava la psicanalisi infatti allora magari dopo in classe abbiamo letto l'ediporee di Sofocle e abbiamo notato che la psicanalisi può rivelare delle verità terribili che sconvolgono le nostre situazioni e come può succedere e quando prendendo sempre come esempio ovviamente l'ediporee di Sofocle grazie mille grazie per questa bellissima domanda la terremo da parte perché risponderà il professor Lingiardi dopo la sua relazione buongiorno sono Stefano Marraffa studente del liceo classico Ariosto di Ferrara adesso dico la domanda ci troviamo in uno stato di fragilità esistenziale ammorbati da una pigrizia che limita il pensiero e l'azione lasciandoci un margine di autonomia esiguo mi sembra evidente che la nostra identità personale politica stia precipitando faticosamente conviviamo con noi stessi e ancora più faticosamente riusciamo a stabilire una convivenza reale e duratura con gli altri stare soli con se stessi in mancanza di distrazioni e stimoli esterni diventa intollerabile e al contempo anche le situazioni di socialità manchevoli di un senso di comunità e condivisione diventano opprimenti in assenza di una generale serenità cerchiamo di nutrirci di brevi e piacevoli esperienze senza domandarci se sia giusto essere destinati a una corsa incessante pur essendo consapevoli di questa situazione né allontaniamo le evidenze come se questa appartenesse ad altri e non a noi così da poter liquidare qualsiasi tentativo di analisi del problema come riscattarci da questa condizione ridondante della nostra storia umana ma all'apparenza senza soluzione quali potrebbero essere strumenti adatti a prendere coscienza di se stessi e a conoscersi nel mondo odierno grazie buongiorno sono un po' in soggezione qui davanti però io sono Virginia della classe seconda B del liceo Riosto di Ferrara quarta e intanto ne approfitto per ringraziarvi e ovviamente ogni vostra parola come detto dal professor Dionigi mi aiuterà a capire chi sono ma per sapere chi siamo quindi tu qui sesta appunto è necessario sapere come siamo stati creati alla luce del suo scritto Cardinale Ravasi il libro della Genesi come ha detto il creatore in lui ha posto un sigillo divino l'uomo infatti è l'immagine di Dio nella sua capacità generativa e viene all'esistenza grazie a un ritirarsi di Dio cosa intende per viene all'esistenza grazie a un ritirarsi di Dio ritirarsi di Dio non si capisce la frase ah scusi cosa intende per viene all'esistenza grazie a un ritirarsi di Dio una grazie di Dio va bene a un ritirarsi ritirarsi di Dio la grazia a un ritirarsi a un ritirarsi ah beh per fatto brava buongiorno a tutti io sono Ludovica Mazza del liceo Minghetti si sente male? del liceo non ho capito di Modena forse tra i documenti che c'erano allegati con i vari testi da leggere che insomma erano presi da autori latini leggendo l'epistola 1-11 di Orazio possiamo notare come la strenua inerzia di cui lui parla che oggi forse potremmo definire depressione insomma fosse una malattia già conosciuta al tempo dei Romani tanto da essere identificata con una divinità la dea Murcia e l'influsso di questa divinità che era una divinità minore rendeva l'uomo murcidus da cui l'aggettivo marcidus poiché appunto si pensava che la depressione noi qua non riusciamo a capire però forse bisogna che venire qui da un punto di vista perché parla chiaro ma no è il microfono effettivamente che non si sente molto bene ma se salisse qua un pochino se state leggermente più lontani proviamo proviamo eh proviamo proviamo leggendo l'epistola 1.11 così è meglio meglio va bene sì è meglio leggendo l'epistola 1.11 di Orazio si può notare come la strenua inerzia che oggi potremmo chiamare depressione fosse una malattia già conosciuta al tempo dei Romani tanto da essere identificata con una divinità la dea Murcia l'influsso di questa divinità minore rendeva l'uomo murcidus da cui appunto l'aggettivo marcidus poiché si pensava che la depressione fosse una marcescenza dell'animo partendo da questo presupposto mi sono domandata quale fosse il rapporto che i Romani avevano verso questo stato d'animo e soprattutto quale fosse il rimedio per guarire da questa bile nera come la definiva anche Ippocrate e acquisire così l'equilibrio dell'anima di cui parla proprio Orazio in questa epistola grazie grazie allora scusate ragazzi siccome sono già diverse domande io farei un primo giro di risposte voi però restate lì così poi sentiamo anche le vostre di risposte in parte riguarda anche te in parte lui che come facciamo beh cominciamo sedetevi intanto eh sì perché qui le hanno unite no però io prendo le mie quelle che sono perché alcune saranno destinate al professor Lingiardi per esempio l'ultima naturalmente sulla depressione vediamo un po' di la prima domanda la prima domanda è effettivamente come diceva giustamente eh professor Dionigi io ho scritto un libro intero sulla questione anima allora diciamo per non affrontare tutto l'orizzonte complesso partiamo soltanto da due dati primo se noi fossimo solo eredi della tradizione giudaico cristiana quella biblica saremmo più vicini a una certa non completa sensibilità attuale perché nell'interno dell'antropologia di quell'antropologia in pratica l'anima non esiste è irrilevante è l'essere intero umano che viene considerato tant'è vero che il termine che di solito poi i traduttori greci ecco il problema della traduzione della Bibbia i 70 girolamo e cercano di tradurre questo termine con psiche o con anima in realtà in ebraico abbiamo nefesh allora vi spiego che cos'è nefesh con una curiosità sperando di non dover fare in questo caso un po' ancora il mio passato io non ho detto non ho mai insegnato il geroglifico però un po' lo conosco quello almeno quello di un periodo soltanto quando si deve rappresentare questa trilogia perché di solito si parte da tre consonanti nfr vediamo se qualcuno di voi riesce a ricostruire un nome egiziano che voi tutti conoscete nefertiti la bellissima nefer come il segno grafico è una trachea e i polmoni questo è il segno grafico stilizzato ma è una trachea e i polmoni il che vuol dire che la concezione della nefesh nefer la nefesh è l'esistere l'esistente che è bello anche la vita e così via allora in questo caso come vedete ancora una volta viene messo insieme la totalità dell'essere io ho detto che questa è la concezione anche tendenzialmente contemporanea ma tu hai fatto notare molto bene che però nella contemporaneità l'unità ha sbalestrato l'accento sulla corporeità sul corpo ed ecco allora una concezione della persona anima corpo che è tutta spostata sulla corporeità che effettivamente conquista io farò un esempio adesso tratto dal mondo delle neuroscienze una delle discipline più affascinanti devo dire io non non sono specialmente ma mi interesso per curiosità come amateur voi pensate in questo momento immaginate la vostra scatola cranica scatola cranica che contiene di cervello 130 180 grammi rilevante materia ma che cosa conteniamo noi qui dentro dagli 80 ai 100 miliardi di neuroni per cui aveva ragione la sapienza greca quando diceva antropos micros cosmos la galassia nostra la via lattea è composta da un centinaio di miliardi di stelle noi abbiamo ecco allora la grande tentazione quale di ridurre tutto alla dimensione fisica e io capisco anche questo fascino adesso io non entro però nel discorso più complesso che dovrebbe invece esaltare e sviluppare perché ho detto bisogna fare una conferenza su questo e se non si fanno luoghi comuni la cultura greca che tu hai evocato bene sinteticamente la cultura classica tendenzialmente ha posto invece in dialettica in contrasto la psiche è il soma l'anima è il corpo a differenza del nefesh famoso di prima e a differenza anche della cultura attuale che è tutto sposto su soma ecco perché allora la cultura greca platone soprattutto esalta l'anima e l'anima è questa dimensione che non è riducibile al puro fisicalismo aristotele è già un po' più furbo su questo perché usa dice sì è vero che è così però ha bisogno del soma per potersi esprimere questa dimensione spirituale ecco io ho evocato soltanto i termini di un problema e qui adesso bisognerebbe affrontarlo sta di fatto comunque che aveva ragione quello scrittore tedesco il quale diceva aveva incontrato degli indigeni della Michael Ende si chiamava quello della storia infinita aveva incontrato degli indigeni in Brasile e questi avevano detto e avevano cominciato a imparare un po' tutta la tecnologia moderna con tutto quello che comporta e cosa aveva cosa avevano risposto a un certo momento a lui le sue domande dice ma noi siamo corsi troppo avanti con queste cose abbiamo bisogno di fermarci per far sì che le nostre anime ci raggiungano le abbiamo lasciate indietro vedete c'era la consapevolezza che solo la materialità abbiamo bisogno di riprendere altra domanda brevemente questa beh anche questa è sulla fragilità esistenziale che genera una crisi sociale io scelgo solo un elemento che è stato detto in questo discorso e altro che sulla ha posto l'accento chi di voi ha fatto questa domanda sulla questione della solitudine proprio perché siamo così fragili la società contemporanea risulta così confusa ed ecco allora la forte tentazione alla fine di ridursi alla solitudine ecco io direi che bisogna distinguere ecco qui come diceva giustamente bene Ilaria sulle parole distinguere noi poi abbiamo una lingua bellissima come la nostra è l'italiano distinguere tra isolamento e solitudine l'isolamento è una maledizione Nabokov diceva è il campo di gioco di Satana a disperazione pensate un po' cosa accade anche in questo momento in un condominio di Bologna soprattutto la domenica c'è magari una persona sola che è lì aspetta che suoni il telefono campanello di casa non ci sarà nessuno che si ricorda di lei Giorgio Caproni un poeta ha rappresentato proprio questa persona davanti a una parete da sola con i suoi torti e le sue ragioni a parlare ai morti questo è l'isolamento e nella abbiamo una folla di solitudini nelle città tante volte e ne accorgo anch'io io quando ero giovane prete andavo a Milano a Roma mentre ero studente nella periferia di Roma Torpignattara era proprio abbandonata e andavo tutte le volte a portare la comunione perché lo voleva una signora un signore anziano però arrivò un giorno in cui io dovetti dire a lui io ho finito i miei studi io torno a Milano ormai non sarò più non verrò più qui ogni domenica a trovarlo lui mi preparava il caffè non aveva nessuno più nessuno questa persona e lui mi ha detto una frase che io non ho mai dimenticato io pensavo eh ma è triste perché lei se ne va e lui mi ha detto e mi dice lei non sa cosa vuol dire non avere più nessuno da aspettare questo è l'isolamento non avere più nessuno da attreverare l'attesa attesa è ammirabile dall'altra parte la solitudine e invece questa è necessaria ricordavo prima anche un po' Kafka ma la solitudine è la dieta dell'anima e purtroppo voi giovani eh devo dire eh abituarsi a creare un'oasi qualche volta di silenzio un'oasi in cui si è soli con se stessi terza e ultima considerazione beh questa che però non la non la approfondisco ma è molto curioso quello che è stato proposto a proposito Dio crea l'uomo sua immagine notate bene che l'immagine qual è l'immagine è il maschio come dirà la tradizione giudaica e anche Paolo successiva no Dio creò l'uomo a sua immagine a immagine di Dio li creò maschio e femmina li creò cioè la capacità d'amore generativa la vera immagine la vera statua di Dio è per questo che sono importanti nell'antico oriente le genealogie perché è come se fosse la rappresentazione di Dio che continua a manifestarsi ma sono l'uomo e la donna che generano e qui naturalmente la generazione intesa nel senso più ampio possibile non solo quello fisico ma tu hai detto chi ha detto questa domanda ha parlato del ritirarsi di Dio questo è vero c'è una tesi che è molto famosa nella tradizione giudaica che si chiama dello tzimtzum che vuol dire proprio ritrarsi Hölderlin diceva quando Dio crea fa come gli oceani coi continenti gli oceani si ritirano e lasciano emergere i continenti Dio in un certo senso infinito ed eterno si ritrae per lasciare spazio all'umanità ed è per questo che l'uomo e la donna sono liberi non sono come le stelle non hanno leggi meccaniche dopo ci sono tutti i problemi della libertà che ecco entriamo in un altro ambito però essi sono capaci di dire no anche a Dio e Dio rispetta difatti non ferma il coltello di chi sta per pugnalare la mano non la ferma è questo ritirarsi questo impoverirsi della divinità che diventa meno eterna meno infinita se così si può dire fermiamoci qui allora ci sono le vostre domande tenetevele strette perché dopo la relazione del professor Lingiardi le farete voi sarete i primi e il professor Lingiardi risponderà anche alla domanda sulla psicanalisi di Porè mentre il professor Dionigi risponderà sulla epistola di Orazio ma ho ancora due domande che c'erano arrivate invece che erano state selezionate per il cardinal Ravasi allora una viene dal liceo Galvani di Bologna e riguarda la memoria il tempo delle opere non è il tempo finito della scrittura bensì il tempo infinito lo spazio letterario è la memoria degli uomini qua si sta citando Borges e chiede il senso dei libri è davanti a loro e non dietro è in noi volevo sapere cosa ne pensate quindi cosa pensa dell'idea appunto dell'idea di una biblioteca universale in cui il tempo delle opere non sia il tempo finito della scrittura ma un tempo infinito e lo spazio letterario come memoria degli uomini ultima domanda dal liceo muratori di Modena in un mondo sempre più fondato sull'apparenza in cui la sentenza di Seneca quantum abuit fuit si è quanto si ha è presa alla lettera in una società che giudica tutto sulla base del valore materiale esistono luoghi attività che ci ricordano la bellezza del volere spirituale e ci aiutano a conoscere noi stessi non mostrandoci ma scoprendoci no io risponderò non risponderò in pratica dirò soltanto due battute per quanto parto dalla seconda la bellezza ecco lasciamo stare mettiamo una moratoria una volta per sempre a quella frase di Dostoevsky che la bellezza salverà il mondo lasciamola perdere qualche volta perché viene usata in una maniera così stereotipata che non invece io direi soltanto questo per quanto riguarda la bellezza noi abbiamo una bella lingua che è l'italiano e l'italiano ha due vocaboli antitetici rispetto alla bellezza nella tradizione classica cristiana nella tradizione medievale sempre la via pulcritudinis era la via per eccellenza analogica per parlare di Dio Tommaso d'Aquino le sue cinque vie come sapete invece le parole e l'antitesi teniamo conto di questa cosa che è più facile da scoprire ai nostri giorni in italiano c'è la parola bruttezza che cosa indica la bruttezza facciamo così prendiamo anche l'altra parola bruttura qualche uno li usa così come invece non sono uguali anche se hanno la base comune la prima è una parola è un termine di tipo estetico la bruttezza pensate qualche tristissime periferie e dall'altra parte la bruttura è una categoria etica morale ma le due si sposano e perché di solito le periferie sono i luoghi nei quali è peggiore il traffico della droga in questi quartieri così squallidi così e purtroppo c'è questa specie una persona che comincia a lasciarsi andare esteticamente anche se volete tendenzialmente poi dopo anche perde la dimensione è importante guarda la grande classicità qui sempre con il latino tre stelle nel cielo il verum la verità il bonum il pulcrum la verità il pensiero l'etica la morale l'estetica tutte e tre sono insieme sono una costellazione e l'altra invece beh l'altra è proprio veramente una cosa molto sofisticata questa sul tema della memoria e la memoria letteraria sono contento che qui uno non so chi ha elaborato questa domanda mi piacerebbe perché ha citato Borges è un autore che io amo tanto ma anche in una maniera motivata perché io sono stato amico ho avuto contatti frequenti con la moglie Maria Kodama la moglie di Borges la quale si interessava sempre in tutte le conferenze che abbiamo fatto in Argentina insieme sempre sul tema della mistica di Borges lo consideravo un mistico quasi ebbene ecco credo che la memoria io qui ritornerei ancora la categoria come la categoria tradizionale classica della memoria il memoriale a partire dalla Bibbia per esempio e la memoria non è mai soltanto affacciarsi al passato ma è contemporaneamente guardare il passato vedendone i semi che permettono di comprendere il presente e di proiettarsi al futuro è un po' quello che è nel latino è il perfetto o in greco meglio è il perfetto la possibilità è con la vera memoria e purtroppo noi viviamo in un'epoca adesso che è totalmente smemorata e quindi non riesce a capire bene il presente non ha tutta la strumentazione di questo passato nobile e forse andiamo un po' ciecamente verso il futuro allora ultimissima risposta del professor Dionigi sulla domanda su Orazio e poi mi raccomando voi tre state lì che dopo ci saranno le vostre e poi la pausa prima sì una battuta sulla riprendo quanto diceva il cardinale la domanda anche sulla fragilità le dite in capo personale risponderà poi e Vittorio Linziar di questa intollerabilità dello stare con se stessi e come conoscesi col mondo esterno ora tutto vero solitudine secessione dei giovani linguaggio vero difficoltà a conoscersi a riconoscersi negli altri tutto vero solo che teniamo presente una cosa io sono fermo ad Aristotele che però forse bisogna ritornarci noi siamo caratterizzati da due proprietà la polis e il logos Aristotele dice chi vive fuori dalla comunità è bestia o dio star nella società oggi è difficile star nella società oggi non è la cosa più bella star nella società per i giovani non c'è posto perché di solito di voi non frega niente a nessuno diciamole tutte di qui la fragilità però ricordatevi fate politica la polis la vita associata è fondamentale farla assieme il pronome noi ci salverà e vi salverà qui si riagga e come la si fa con l'altra parola che oggi è venuta fuori dai l'area con logos cosa è il logo il pensiero che abita la parola le grandi sintesi del pensiero vacillano i partiti la chiesa le famiglie fanno fatica dove andiamo qui c'è un linguaggio nuovo da costruire delle parole da costruire però tendere tutte alla polis cosa è la polis è la comunità è la cosa più bella il vivere insieme anche la parola felicità a cui avete diritto o la raggiungete assieme o non è felicità il daimon che avete bisogna metterla assieme agli altri per farlo diventare un bel un bel leudai leudaimonia la felicità ma qui poi risponderà anche Vittorio sull'epistola di Orazio sarei tentato di rinviare anche l'introduzione a Orazio di Alfonso Taraina all'atracura la strenoinerzia l'atracura questo affanno ater il colore funereo non niger lucido lumino ma quello cupo dell'averno l'atracura di Orazio la strenoinerzia rispondo così i classi sapienza classica fosse picorea fosse stoica le scuole contraposte si riconoscevano loro cercavano l'autarchia l'autonomia come la cercavano con l'ecus animus con la constanzia lo star fisi l'idea del sapiens era la stabilità ed era quella che era difficile raggiungere anche a Roma nel primo secolo avanti Cristo anche nel primo secolo dopo una Roma tormentata una Roma di qui la polemica contro i viaggi contro l'esteriorità la salvezza questo è un grande segnamento la salvezza la cercavano intus dentro questo gli epicurei gli stoici anche Orazio l'ecus animus la polemica contro i pazze tutto ciò che non ti procura né la pazza né la taraxia né l'insensibilità e la l'indifferenza questo era il grande ideale ora quell'epistola celum non animum mutant qui trans mare curunt coloro che avarcono oceano e che fanno crociere cambiano clima ma non cambiano l'animo ecco io credo che qui i classici ci possano ancora dire qualcosa nel porre la domanda poi la risposta aspetta ognuno di noi poi sulla parte quanto ci sia di depressione in Orazio non so se vuol spingersi qui Vittorio Lingiardi però direi tenete presente alcune piccole bussole la polis e il logos l'ecus animus il non cercare la felicità fuori di sé certo per voi oggi siete piombati in un mondo che è stato preparato per gli adulti dagli adulti e per loro ora siete messi in un mondo in cui si chiede a voi di provvedere a voi stessi e presto tra i vostri figli questa è la grande sfida oggi non sappiamo neppure l'era della globalizzazione l'era dell'anonimato l'era in cui però non fate la secessione né interiore né di gruppo recuperate la polis la politica fate politica andate a votare fate dei gruppi riscoprite dei nuclei vitali bisogna ricominciare da capo lo dobbiamo fare noi adulti avremmo voluto lasciarvi un mondo migliore tanto più fatelo voi fatelo voi questo paese diviso da tutti ha un filo rosso che le unisce dalla Sicilia al Tirolo questo paese è diviso dalla cattiveria degli adulti dall'orografia dall'economia dall'ingiustizia sociale c'è un filo rosso però che tende a fare l'unità del paese sapete qual è? questo filo rosso dalla Sicilia all'Alto Adice siete voi siete voi sedicenni diciassettenni diciottenni che fate la speranza l'unità e la bellezza di questo paese quindi tocca a voi abbiate più fiducia in voi stessi allora è arrivato il momento della pausa mi dicono io sono una persona più inadatta come avete capito a gestire il tempo però mi dicono di stare attenti che deve essere una breve pausa perché alle 11.15 dobbiamo riprendere per dare modo a tutti di fare le loro domande ci vediamo alle 11.15 grazie sì un quarto un quindici bravo